Il primo video ha fatto otto visualizzazioni, poi il secondo ne ha fatte dieci, dodici, però questa cosa qui non ci ha scoraggiato. Dopo tre o quattro mesi abbiamo raggiunto mille iscritti. Quel giorno ci siamo dati una promessa. Se quest'anno raggiungiamo diecimila iscritti, continuiamo, altrimenti ci fermiamo perché veramente impieghiamo tanto tempo a fare tutto questo. Quell'anno abbiamo raggiunto poi trecentomila iscritti e quindi abbiamo detto ok, non possiamo adesso fermarci e andiamo avanti per questa strada. Ciao a tutti, lui è lui e lei è Sofì e insieme siamo in me contro te. Lui era proprio un grande appassionato. Io sono un super fan di YouTube e allora guardavo tutti i YouTuber dell'epoca più quelli americani. Noi parallelamente invece nella nostra vita facevamo dei video che condividevamo con i nostri amici su WhatsApp. Poi è venuta l'idea di dire ma perché non li mettiamo su internet? Non c'era nessuna idea di diventare famosi anche perché allora non esisteva il ruolo dell'influencer che guadagna con internet. YouTube praticamente quasi quasi non esisteva nel senso che si iniziava a conoscere però non era ancora diventato mainstream. C'era Clio Makeup, Will Wush, noi apparteniamo a quella generazione. Abbiamo cominciato a pubblicare i video e li registravamo veramente super amatorialmente col telefonino appoggiato sulla scala e senza luce, senza niente. Anzi la luce l'avevamo, era un neon che ci aveva dato mio padre, un neon staccato non so dove. Il primo video ha fatto otto visualizzazioni, poi il secondo le ha fatte dieci, dodici, però questa cosa qui non ci ha scoraggiato perché non c'era un obiettivo di raggiungere un milione di visualizzazioni, anche perché venivamo entrambi da un piccolo paese di provincia non ci saremmo mai immaginati di poter avere successo. Dopo tre o quattro mesi avevamo raggiunto mille iscritti, per noi era qualcosa di incredibile perché noi non conoscevamo mille persone che ci seguivano. Quel giorno ci siamo andati una promessa, se quest'anno raggiungiamo diecimila iscritti continuiamo, altrimenti ci fermiamo perché veramente impieghiamo tanto tempo a fare tutto questo. Quell'anno abbiamo raggiunto poi trecentomila iscritti e quindi abbiamo detto ok non possiamo adesso fermarci e andiamo avanti per questa strada. È stato difficile all'inizio farlo capire, intanto anche ai nostri genitori perché vedevano che trascorrevamo molto tempo dietro YouTube perché facevamo tutto da soli, quindi io editavo i video, li registravamo nella cameretta, però ci hanno sempre supportato e il fatto che vedevano che comunque per noi era un divertimento e ci faceva star bene, ci hanno permesso appunto di andare avanti per questa strada finché poi pian piano è diventato il nostro lavoro. Da sempre volevamo realizzare un disco di Natale e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'occasione di farlo. La musica per noi è sempre stata una grandissima passione, veramente facevo musica in tutte le salse e in tantissimi stili proprio spaziamo. All'interno del disco ci sono dieci canzoni e tutti risuonati in chiave dance perché vorremmo trasmettere appunto un po' della follia me contro te e del divertimento che cerchiamo di trasmettere sempre con i nostri video. Natale comunque è un momento per stare insieme, quindi un momento romantico, però soprattutto deve essere un momento di festa e quindi bisogna scatenarsi con le nostre canzoni. Siamo diciamo la mente creativa dietro tutti i brani, insieme a noi lavorano degli autori fantastici, Shade, Rufio. Partiamo sempre dal pensare cosa possa piacere ai nostri fan, cosa ci potrebbe divertire e soprattutto il mood di quel periodo. Credo che la musica sia forse quello che ci piace più fare tra tutto ciò che facciamo, anche forse più dei film. Fare gli spettacoli dal vivo è stata la cosa più emozionante della nostra vita. Per la prima volta tutti quei numeri che vedevamo sempre nei nostri social sono diventate delle facce reali. Esatto. Abbiamo avuto modo di vedere tutti questi bambini con le famiglie che si divertivano a guardarci, si sono scatenati. È stato veramente emozionante, ogni volta veramente a stento riuscivamo a trattenere le lacrime. Non siamo veri e propri cantanti, però lo show che abbiamo tirato su è quello da veri artisti che fanno i palazzetti, perché appunto insieme a noi lavorano le maestranze che poi lavorano per tutti gli altri cantanti. E il prossimo anno lo rifaremo, però con uno show ancora più bello, perché è lo show per festeggiare i dieci anni di carriera dei me contro te. Dieci anni di carriera sembra veramente ieri che abbiamo iniziato a poter festeggiare questo insieme ai nostri fan nei palazzetti. È qualcosa che non vediamo l'ora di fare, ecco. Forse la componente che è vincente nel nostro percorso è proprio il fatto che noi siamo spontanei, siamo veramente noi. E quindi qualche anno fa ci veniva posta questa domanda, se pensavamo di crescere con i nostri fan oppure pensavamo di sempre parlare ai più piccoli e non sapevamo rispondere. Oggi sappiamo invece che c'è stato già un cambio generazionale, perché a volte per strada incontriamo dei ragazzini che ci dicono siete stati la mia infanzia. Noi non abbiamo mai pensato i contenuti che facciamo per un target in particolare, anche perché sarebbe veramente quasi impossibile, perché ci seguono dai bambini di quattro anni ai bambini di dieci anni a magari qualche ragazzino ancora a quattordici anni legato a noi. Per noi il modo più semplice per approcciarsi è il pensare a divertirci, ecco. Fare ciò che ci piace, come ci piacerebbe fare un film, come ci piacerebbe a noi cantare delle canzoni di Natale. E probabilmente questa spensieratezza poi si trasmette, viene apprezzata da chi ci segue. E infatti abbiamo un pubblico enorme, affezionato a noi. Oggi ci seguono le sorelline o i fratellini di chi ci seguiva magari cinque, sei anni fa. Questo è incredibile. Sicuramente sentiamo di avere una grande responsabilità, perché comunque i più piccoli ci prendono anche come esempio. E quindi per noi è fondamentale riuscire sempre a trasmettere dei valori positivi, dei messaggi. Ci lasciamo sempre guidare dal buon senso. La nostra idea è quella di far sì che i dieci minuti che passano davanti al nostro video, l'oretta che passano al cinema con la propria famiglia, siano momenti comunque di spensieratezza. Quindi cerchiamo di lasciare i temi brutti o i momenti difficili, anche per esempio durante la pandemia. Non abbiamo mai nei nostri video fatto riferimento alla pandemia, anche nonostante pubblicassimo un video al giorno, per far sì che anche chi vedeva i nostri video in quei momenti lì potesse staccare dalla realtà e vivere un po' di serenità. All'interno poi di tutti i contenuti che facciamo cerchiamo di trasmettere sempre dei valori più positivi possibili, come per esempio quelli dell'amicizia, dell'affetto, dello stare insieme. Ad esempio una volta abbiamo fatto un video a grande richiesta dai genitori, dove ci chiedevano di spiegare come si lavano i denti, di quanto si è portati, oppure quando abbiamo spiegato anche perché bisogna lavarsi le mani spesso nel periodo del Covid. Sì, sì, sì. Siamo sempre attenti. A noi piace l'idea di mostrarci appunto con la semplicità che abbiamo e che abbiamo sempre mantenuto, anche perché la crescita di fama che abbiamo avuto è stata molto graduale, è durata dieci anni, quindi non è che dall'oggi al domani si siano trovati famosi e non sapevamo come gestirla. Noi da piccoli eravamo dei grandi fan della melevisione, piuttosto che di Art Attack, però poi a un certo punto questi programmi non ci sono più stati in tv, quindi noi pensiamo di esserci forse inseriti in questo spazio che si era venuto a creare, perché non c'erano più dei programmi televisivi per bambini con delle persone vere. Siamo trovati al posto giusto, al momento giusto, perché noi facciamo i nostri contenuti, ma che non avevano nessun obiettivo di intercettare un target di bambini. Semplicemente in quel periodo lì non c'erano più questi programmi che ha citato Sofia di intrattenimento per i più piccoli. Mente lucida ce ne rendiamo conto guardando un po' il quadro, però mentre ce l'avamo dentro non avevamo capito che era successo questo. Mandiamo un bacione gigante a tutti i lettori di Fanpage. Ciao!